E il Movimento 5 Stelle ribadisce, le abbiamo provate tutte, ora basta, torniamo a votare. Di Maio propone di cambiare il Jobs Act. Francesco Accardo. Ci abbiamo provato per 55 giorni, ma i partiti hanno preferito tenersi stretti Renzi e Berlusconi. Bisogna andare al voto il prima possibile. Luigi Di Maio fissa la trincea dei 5 Stelle dopo la brusca chiusura del dialogo con il PD e il risultato negativo in Friuli, dove il Movimento ha perso 130.000 voti rispetto a soli due mesi fa. Abbiamo fatto davvero il possibile per far partire il governo del cambiamento, per dare al Paese le risposte da tanto tempo attese. Invece i partiti si sono messi di traverso e hanno preferito i loro interessi a quelli dei cittadini. E' per questo che riteniamo indispensabile tornare alle elezioni quanto prima possibile. Sancita dunque la chiusura dei due forni, strategia seguita dal Movimento per quasi due mesi. Un contratto col PD era l'ultima cosa che avremmo voluto fare, dice adesso Di Maio, che rilancia la necessità di vedere Jobs Act e legge Fornero. Temi che invece tengono aperto lo spiraglio con la Lega, anche se l'offerta di tornare in posizione di minor forza, un tavolo con Salvini e tutto il centrodestra, viene respinta dai vertici grillini. Che il passaggio sia delicato lo testimonia la contemporanea discesa in campo di Grillo e di Battista, che difendono Di Maio dai dubbi della base, attaccano i partiti con termini da movimento della prima ora e dicono tutti con Luigi per tornare presto al voto. E a chi gli chiede se il Parlamento possa rapidamente modificare la legge elettorale, il Presidente della Camera Fico dice vedremo, ora c'è il problema del governo, ho piena fiducia in Mattarella.